Miko ti dà il benvenuto alla sua guida rapida. In questo video impareremo a parlare con Miko. Accedi alla schermata principale, quella dove vedi la faccia di Miko. Di Hello Miko. Quando vedi il tuo amico robot passare alla modalità ascolto, fai una domanda. Se preferisci puoi anche toccare l'icona del microfono e porre la tua domanda. Vuoi qualche esempio di domande divertenti da fare a Miko? Chiedi a Miko di raccontarti una barzelletta, chiedi di farti sapere com'è il tempo, di ballare con te oppure di fare una faccia arrabbiata. Visita help.miko.ai per altre domande e comandi divertenti. Qui trovi anche altri suggerimenti per parlare con il tuo amico robot. Forza Miko!